Presidente Zaffiri, oggi una giornata importante per la provincia di Pescara con la visita dell'ambasciatore di Giordania. Certo, una visita molto molto importante e noi siamo onorati di accogliere Sua Eccellenza Faiz Kaur, ambasciatore di Giordania in Italia e siamo molto molto orgogliosi di far conoscere la nostra provincia, le nostre peculiarità e le nostre eccellenze del nostro territorio. Provincia di Pescara che vuole espandersi al di là dei confini regionali e nazionali in questo caso. Penso proprio di sì perché noi abbiamo questo compito, le istituzioni hanno il compito di promuovere, valorizzare i propri territori e promuovere i propri territori. Vogliamo chiedere anche tramite l'interprete al signor ambasciatore l'importanza di questa visita a Pescara. La mia visita a Pescara è parte della mia attività di ambasciatore in Italia, paese che sto visitando per cercare di sviluppare relazioni economiche, culturali e umane tra Giordania e l'Italia. Nazioni differenti ma, come dimostra Pescara, simili per diversi aspetti. Spero che questo sia l'inizio di una eccellente collaborazione per il futuro.